Ci troviamo qui a questa bellissima serata al Paradise con il DJ della serata, Ilia Schultz. Che tipo di selezione hai fatto questa sera? Un po' mista, tanto che comunque è arrivato un po' misto e mi sono adattato. Ti è piaciuta la serata? Certo mi è piaciuta. Ora in questo momento ci troviamo a fine serata, il bagno non me lo so fatto e non me lo farò assolutamente. E perché no? Sono vestito, fa caldo. Ma che ti frega? Spoglio io. No, 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 a spogliare no. Voglio vedere gli altri cosa pensano, vuoi venire con me? Sì, andiamo. Allora, ragazzi, cosa pensate della serata di stasera? E che devo pensare? Una serata straordinaria in compagnia di grandi amici e del grande mito Pierluigi Anastasio. è nel nostro cuore e aspettiamo il prossimo evento, Piero, il prossimo grandissimo evento. Eh, lo vogliamo dire? No, no, prossimamente. No, no, diciamo, diciamo. Gianluca Manzieri, 10 maggio al ristorante Michelaggio, va bene, l'ho detto. Allora, Francesca. Buonasera. In giro per voi TV, vai. Eh. Cosa pensate la serata? Bella gente, Pierluigi in grande forma, augurissimi ancora. La serata non finisce qui, ovviamente. E non finisce perché dopo questi shot va bene, dai. Eh, va più che bene. No, l'orge assolutamente no. Ora vogliamo intervistare un person... Grazie, Fri. Vogliamo intervistare uno dei personaggi di Capri, che è Sergio, Sergio Luocco, chiamato Sergio Mignia, per gli amici. Mignia. Mignè. No, no, Mignè, Mignè è un altro diminutivo. Allora, cosa pensi di questa sera? A fare, enorme. È carino, è. Non c'è ma... Non c'è ma... Non c'è ma...